Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso, tra Pistoia e l'allacciamento con l'A1, e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 code in uscita a Calenzano, provenendo da Roma, e rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico-Baccheraia verso Bologna. In A12 per lavori è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Genova, e in uscita provenendo da Genova. In Fipili code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandici verso Firenze. Code alle uscite di Scandici, Santa Croce sull'Arno e Pisa Nord-Est, tutte provenendo da Firenze. Rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori e rallentamenti tra San Casciano in Val di Pisa e Firenze in Pruneta in direzione Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!